ciao a tutti ragazzi oggi parliamo di un tema molto delicato e cioè quello che riguarda i giovani della juventus dalla primavera under 23 tutti i ragazzi che passano per le mani dei settori giovanili bianconeri e che poi non vengono tradotti in prima squadra lo dico subito prima di andare sull'argomento perché so che i commenti saranno tutti questo questa falsa riga è vero c'è un problema giovane la juventus è vero allegri non è un allenatore che va a valorezzare i giocatori provenienti dalla primavera ma questo non l'hanno fatto nemmeno gli altri allenatori che sono stati alla juve in questi anni né conte né pirlo né sarri quindi questo è un problema più profondo che va al di là di chi si siede in panchina per la juve è un problema probabilmente che riguarda la società la juventus negli ultimi anni si è mossa appunto per creare l'under 23 per cercare di agevolare l'arrivo in prima squadra di alcuni talenti negli ultimi anni c'è visto poco e niente i giocatori più freschi che hanno avuto più presenza in prima squadra se vogliamo negli ultimissimi anni togliendo moise ken che ormai si parla di quasi quattro anni fa fra botta lo scorso anno che ha fatto qualche presenza con la juve e quest'anno potremmo fare il nome di miretti comunque stiamo parlando di troppo poco rispetto a tutta la caratura tecnica che è girata nel settore giovanile della juventus e che poi non viene tradotto appunto i risultati in prima squadra attenzione perché c'era fare un bel riferimento su questa questione in realtà la juventus è in una golden age per quanto riguarda i suoi settori giovanili infatti due traguardi storici il primo la yacht league l'abbiamo anche commentata qui sul canale la juventus arriva a fare quarto posto quindi semifinale in yacht league terzo quarto posto uscendo ai rigori contro il benfica che poi andrà a vincere la finale di yacht league per ben 6 a 0 e questo dalla dimensione di quello che è la potenza del benfica oggi e non dimentichiamoci che la tipo la terza quarta finale europea al settore giovanile che fa negli ultimi anni quindi stiamo veramente parlando di una squadra che va a sfornare dei veri e propri talenti la juventus ha avuto il merito di uscire soltanto ai calci di rigore e in semifinale quindi sicuramente una bestia nera da andare a affrontare risultato storico per la juve una delle italiane che è arrivata più in là insieme alla roma che è arrivata con qualche anno ormai nel passato però la juve sicuramente in questo momento è una golden age per quanto riguarda la primavera per quanto riguarda invece l'under 23 ieri mi sono dimenticato e di questo mi dispiaciuto tanto di fare complimenti a mister luciano zauli che andrà avanti e nel secondo turno dei playoff di serie c andrà ad affrontare il padova quindi la juventus rischia di andare addirittura a giocarsi una promozione in serie b che per tanti potrebbe essere quasi chi se ne frega per me invece è qualcosa di molto importante perché se aggiungiamo che la juventus ci ha sempre abituato a questo step di prestito dei giocatori più interessanti del settore giovanile della primavera all'interno della serie b per fare le ossa e poi riportarli pronti in serie a e valutare se saranno adatti alla prima squadra ecco non dover prestare i giocatori in serie b ad un'altra compagine ma averli già nostri aver la possibilità di attingere direttamente dalla serie b per dei giocatori interessanti che si stanno formando nei momenti difficili della stagione ecco questo secondo me sarebbe veramente super importante quindi tifo con tutto il mio cuore la juventus all'interno dei playoff ed è proprio per questo che perderà perché ultimamente quando tifo per qualcuno perde quindi il progetto under 23 ormai è iniziato da qualche anno e possiamo contare ben 27 giocatori che ora giocano in leghe maggiori rispetto alla serie c dove militava appunto la juventus under 23 27 più due che sono appunto nicolussi caviglia che l'altro giorno è stato convocato da legri che rientra da un infortunio dopo un prestito al parma e mosti che ha vinto la serie c con il modene quindi giocherà in serie b l'anno prossimo tengo a sottolineare che tutte queste informazioni le ho trovate all'interno di un articolo interessantissimo secondo me di giovanni albanese scritto su gazzetta dello sport quindi vi lascio i contatti di giovanni qui sotto in descrizione e dico anche che sarà una giornata a forte tinte rosa forti tinte gazzetta dello sport perché nel pomeriggio andrò a registrare un contenuto insieme a fabiana della valle proprio per raccontarvi quello che è accaduto nella serata di coppa italia tra juventus all'interno della juventus dello spogliatoio della juve dove ci sarebbero stati delle liti accese tra allegri nedved chi più ne ha più in emetta quindi vediamo un attimo di ricostruire sentiamo una professionista sentiamo chi ha scritto l'articolo chi ha lanciato la voce e quindi sicuramente ne saprà più di noi ad oggi la juventus ha alcuni giocatori che giocano in serie a e che hanno fatto parte dell'under 23 o della primavera della juve sono i seguenti portanova che gioca nel genoa castano sdragosini degli carri che sono nella salernitana fagioli zanimacchia e rafia che sono stati promossi in serie a con la cremonese anche se in questo momento non giocano in serie a e fra botta che gioca l'ellas che ha avuto anche lui un brutto infortunio e quindi è stato abbastanza sfortunato i giocatori che sono in serie a non sono dei super fenomeni non sono dei nomi affermati ma sono comunque dei ragazzi interessanti e qualcuno potrebbe ritornare proprio alla base mi viene da fare il nome di nicolo fagioli che è stato assoluto protagonista quest'anno della promozione in serie a della cremonese e che potrebbe guadagnarsi appunto un ruolo di risalto alla juventus magari non da immediato titolare ma essere parte dell'organico essere un giocatore della prima squadra io aggiungo sempre quando i giocatori vengano su delle giovanili sono addirittura ctp quindi non occupano posizioni in champions e lista champions quindi non ci obbligano ad andare a tagliare dei nomi importanti anche sul mercato potremmo evitare uno stipendio importante di un giocatore che magari invece non è più così affine alla causa non ha più questo interesse mi viene in mente arthur l'altro giorno pastorello ha dichiarato non è nell'interesse né della juventus né di arthur andare avanti in questo modo sono d'accordo e allora che si trovi una soluzione per accontentare tutti e magari garantire a fagioli il posto di un arthur che in questo momento è scontento non è soddisfatto guadagna tanto vuole andare a giocare da un'altra parte monetizza la juventus risparmia sul suo cartellino e magari prova a valorizzare appunto un settore del prodotto giovanile nicolo fagioli che nel frattempo si è fatto un percorso e magari un po più pronto rispetto all'anno scorso poi io sono sempre di questa ho un po paura perché non vorrei mai che la juventus mi dicesse sì però fagioli non è pronto per la serie a sì però in questi anni in cui siamo arrivati due volte quarti abbiamo giocato con dei giocatori che per la serie a erano pronti ma che non sono stati in grado di rendere quindi a un certo punto devi anche cercare di scommettere su quello che ti sei creato abbiamo anche dei giocatori che militano all'interno della serie b baruatto de marino eture al pisa olivieri al perugia masciangelo al benevento coccolo all'alessandria di pardo al crotone mota carvaio al monza ranocchia al vicenza potrebbe essere un giocatore che arriverà a giocare in serie a magari col sassuolo è una squadra che si è mormorata e felix correia col parma che non ha fatto purtroppo una grandissima stagione e ancora il ligand abbiamo mavididi al montpellier che sta segnando anche tanto in altri campionati invece abbiamo anderson abbiamo peters abbiamo wesley abbiamo vrioni abbiamo fredriksen gozzi marquez e cappellini insomma giocatori che stanno girando per il mondo che giocano comunque tra serie a e serie b della nazione nella quale hanno il contratto senza dimenticare a che miretti sulle devinter che sono tutti giocatori interessanti già entrati all'interno del percorso prima squadra che quest'anno hanno fatto qualche presenza perché a che l'ha fatta la titolare addirittura contro la fiorentina nella semifinale di coppa italia miretti ne abbiamo già parlato soule l'abbiamo visto poco quest'anno devinter invece è stato titolare in champions contro il malmo e allora questi giocatori possono diventare interessanti per la prima squadra dell'anno prossimo soule è uno dei giocatori più mormorati tanto diventerà ctp a partire la prossima stagione e per quel discorso che facevo prima sulle liste potrebbe diventare molto importante molto interessante aggiungiamo il fatto che si sta mormorando di acquistare di maria per un solo anno se non uno più uno per far scattare il discorso decreto crescita di maria soule sono giocatori molto simili per caratteristiche tecniche vabbè intanto la nationalità sono argentini tutti e due si conoscono magari di maria è stato anche l'idolo di soule è un giocatore a cui si è ispirato mancini entrambi giocatori che preferiscono partire dal centro a destra possono giocare anche tra le linee quindi mi farebbe piacere sinceramente un'ipotesi di un come di maria seppur per poco tempo perché il problema di questi contratti multimilionari a ultra trentenni è proprio questo il fatto che poi rimangano lì sul gruppone che tu non possa venderli perché diventano invendibili e magari non sono più utili alla causa e magari costano troppo se tu gli fai un anno di contratto più uno di opzione poi arrivi all'anno prossimo e valuti e se ha fatto un anno buono magari ne dai un altro nel quale nel frattempo soule che è rimasto in prima squadra ha avuto dei consigli da parte di uno dei campioni più affermati dell'ultima generazione argentina e nel frattempo è diventato dopo un anno in prima squadra magari più pronto per essere già decisivo non dimentichiamoci che soule quest'anno ha fatto un campionato di serie c e quindi il salto dalla serie c alla juventus ragazzi è immenso però se nel frattempo viene aiutato dall'ambiente e da dei giocatori che lui può considerare davvero esempi veri e propri a cui attingere eccoci qua tra l'altro su di maria ce la fare anche un altro discorso in tanti mi dicono ma che senso ha eventualmente prendere di maria quando avevi di bala in casa e decidono rinnovarlo allora facciamo un passo indietro è vero che di maria è più vecchio di di bala però lo racconta anche le storie le storie dei due calciatori di maria ha vinto a livello internazionale vinto a champions league ha vinto in nazionale sul gol che dà la coppa america all'argentina quest'estate contro il brasile è un giocatore davvero che con la sua nazionale ha scritto la storia vera e propria con i club ha scritto la storia quindi sicuramente parliamo di un giocatore diverso rispetto a di bala lo dico con tutto il bene l'amore che provo nei confronti di paolo di bala che saluteremo appunto lunedì dall'altra parte dico anche che se l'idea è davvero quella di valorizzare mattia sulle e quindi aggregarlo alla prima squadra al giro di un paio d'anni ecco un'opzione annuale o biennale per di maria ti impone anche questa cosa qui rinnovando di bala per tre o quattro anni dopo ti ritroveresti di bala con altri anni di contratto sulle magari pronto per essere un titolare un giocatore importante per la prima squadra che verrebbe anche un attimo coperto dal rinnovo di di bala quindi se si vuole fare questo tipo di ragionamento lo trovo congruo coerente e io lo appoggio lo sposo a patto però che si iniziano a valorizzare alcuni di questi giocatori ribadisco non si sta parlando di fenomeni nella lista che vi ho fatto non c'è nessun giocatore che dice wow questo è davvero fortissimo non vedo l'ora di averlo la juventus però è anche vero che non possiamo continuare a strapagare calciatori facendo tre quattro cinque anni di contratto che poi vanno a diventare vecchi vanno a diventare fuori dal progetto vanno a diventare pesanti vanno a diventare i classici colpi che poi rimangano lì come quando abbia rinnovato chiedira quando abbia rinnovato manzukic ecco dobbiamo distaccarci da quella roba lì con tutto il bene e il rispetto che posso volere sia manzukic che chiedira ma quello è stato il nostro grave errore lo stesso alexandro lo stesso rugani che ci ritrova in questo momento ma anche l'idea di andare a rinnovare bernardeschi piuttosto che dare la possibilità sulle di essere il bernardeschi quindi la riserva la prima riserva sono cose che non condivido più ad oggi serve qualcosa di diverso perché questa strada che abbiamo seguito fino adesso non sta funzionando è la strada più coraggiosa magari come scelto il milano dopo tanti anni bui e dopo tanti anni in cui ha provato la stessa strada che abbiamo fatto noi basti ricordare il mercato in cui comprano bonucci biglia che si borini c'ha la no glue e poi alla fine niente di fatto allora mi hanno scelto una strada più pericolosa più intelligente che io forse nemmeno condividevo l'anno scorso e che non condivido tuttora perché la juventus che non mi rinnova di bala un po mi fa girare però però se questa è la strada più pericolosa e che io non condivido che può portare però risultati diversi perché negli ultimi anni seguendo l'altra strada abbiamo fatto peggio e allora ben venga il coraggio di non rinnovare più alcuni calciatori farli andare via a parametro zero per investire valorizzare dei nostri giovani che magari tra una stagione tra due stagioni valgono 10 20 30 milioni in più di quello che sono oggi e si possono cedere per ricominciare il progetto è ovvio che basti pensare faccio l'esempio più banale più terra terra che posso io non considero pellegrini pronto per essere titolare della juventus però piuttosto che fare un'altra stagione con alexandro mi faccio una stagione con pellegrini titolare e poi se a fine anno non ha fatto bene o ha fatto benino se ha fatto benino è giovane ancora giovane vuol dire che avrà preso almeno 10 milioni in più di valutazione lo vendo a 20 25 milioni l'anno prossimo bene quei 20 25 milioni li investo su un terzino sinistro che considero magari più pronto magari aggiungendo qualcosa perché magari nel frattempo è venuto fuori un nome interessante ad oggi la juventus deve anche ragionare su questi binari che non significa solo perché ribadisco io sono assolutamente pro all'arrivo di angel di maria sono addirittura assolutamente pro all'arrivo di perisic perché non so quando tornerà chiesa come tornerà chiesa quindi se faccio un biennale a perisic bene nel frattempo c'ho perisic mentre aspetto chiesa e quando torna chiesa comunque lo puoi mettere anche a destra dove ci sono di maria sulle insomma puoi avere tante opzioni tra l'altro di maria sulle possono giocare anche dietro la punta nel 4 2 3 1 quindi insomma un bel mix tra giocatori esperti che hanno vinto già pronti adesso per essere giocatori e giocatori tuoi che vengono valorizzati e qui allora non solo allegri perché non è solo allegri ma la juventus stessa deve fare un passo verso questo cambiamento questa novità perché da troppi anni non approfittiamo di questa strada e invece in europa tanti altri top club fanno questa cosa qui giocatori pronti i titolari quelli che sono lì e quando magari ti ritrovi un giocatore interessante all'interno delle giovanili lo provi lo butti dentro è vero che è più facile buttarli dentro quando le cose vanno bene piuttosto che quando vanno male e oggi le cose stanno andando male ma a maggior ragione se vanno male non hai soldi non hai idee devi inventarti qualcosa allora questo è il momento giusto per prendersi i cosiddetti stringerli forte e provare una strada che non hai ancora seguito perché quelle che hai seguito purtroppo in questo momento ti hanno portato qui e non sai se riuscirai a rifare le cose con cui siamo stati grandi perché perché lì semplicemente servivano tanti soldi quindi le opzioni sono due continuare con questa strada che però a quanto pare non è più quella che funziona perché il calcio comunque ha raggiunto anche dei costi difficilmente sostenibili soprattutto post pandemia oppure dato che abbiamo iniziato questo processo under 23 e ripeto mi auguro che vadano in serie B iniziare ad avere un pelo più di coraggio che non significa che l'anno prossimo voglio che la serie l'under 23 da Juventus diventi la prima squadra della Juve ma che almeno un giocatore per ruolo vada a prendersi il tassello perché ribadisco io per Di Maria sono assolutamente pro ma se nel frattempo non mi porti avanti il discorso legato a un giocatore che deve prepararsi ad essere il post Di Maria allora forse ti dico ha senso o è soltanto un anno in cui gli fai un favore perché lui deve prepararsi al mondiale che giocherà a novembre quindi gli serve una preparazione top gli serve uno status top gli serve essere Angel Di Maria anche a novembre grazie